Dove sei stata? Ho avuto un po' da fare. Uh, come siamo misteriosi. Nessun mistero, semplicemente non mi va di parlarne. Dici che non c'è alcun mistero, però ti comporti come se avessi incontrato una spia russa. Se continui con queste ambiguità, finirai col diventare la regina dell'intrigo, Cecilia. Junior, non sono in vena di ironie. Nemmeno io. Cerca di capire. Quello che ho fatto oggi ha a che vedere con il mio passato. È stato un errore. Ho scoperto che fa male ricordare certe cose. Non ti piace ricordare il passato? Dici che il futuro ti angoscia. In che tempo vuoi vivere? Ne ho abbastanza di essere psicanalizzata da te. Lasciami in pace. Mamma, non sapevo che fossi arrivata. Ho bisogno di parlarti, Lucilla. Per favore, accompagnami in camera. Va bene. Mi stavi aspettando? No. Pensavo se era il caso di entrare in camera tua o no. Ora basta, per favore, finiamola. Hai detto che tendo a psicanalizzarti. Sono d'accordo con te. Però lo faccio quando mi accorgo di avere difficoltà a parlare di me. Va bene, non ti preoccupare. No, no, io mi preoccupo invece. E voglio che tu sappia quello che sento per te. Sì, ma a me non interessa saperlo. Dovrai ascoltarmi, Cecilia. Anzi, ho un'idea migliore. Anzi, ho un'idea migliore.